Potessi fare gli uomini immortali e ridare la vita a un uomo morto, questo mestiere sarebbe apprezzabile. Mors stipendium peccati est, morte è la paga del peccato. E' duro. Si peccasse negamus fallimur et nulla est nobis veritas. Se ci diciamo senza peccato ci inganniamo e non c'è verità in noi. Ciò significa che dobbiamo peccare. E di conseguenza morire. Sì. Morire di morte eterna. E come chiameresti questa dottrina? Che sarà, sarà... Vogliamo, signori, presentarvi le fortune di Fausto, buone o cattive. Tanto eccelleva nella religione e nel pascolo fertile del sapere che ben presto ebbe il titolo di dottore, primo fra quelli che amano discutere argomenti celesti di teologia. Finché, gonfio di scienza presuntuosa, troppo alto vuole alzare le ali di cera che il cielo sciolse per farlo cadere. Perché sazio dei tesori del sapere, attirato da pratiche diaboliche, si è dato alla nefanda negromanzia. Nulla gli piace più della magia che egli mette al di sopra del sommo bene. eccolo qui, seduto nel suo studio. Ma queste metafisiche dei maghi e libri negromantici sono divine. Linee, caratteri, scene, cerchi, lettere. Questo è quel che più Fausto desidera. O qual mondo di profitto, di piacere, di potere, di onore, di onnipotenza. È qui promesso all'artista studioso. Tutto ciò che si muove tra i poli immobili mi obbidirà. Un re, un imperatore, comanda solo sulla sua provincia. Non chiama i venti, non squarcia le nuvole. Ma il regno di colui che eccelle in questo giunge fin dove giunge la mente umana. Un mago esperto è un dio potente. Studia Fausto e diventi anche tu, Dio. Wagner. 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 Sì, signore. Salutemi i miei cari amici, Valdesi, il tedesco e Cornelio e pregali di venire da me, urgentemente. Sì, signore. La loro conferenza mi gioverà più di qualunque studio, per quanto intenso. Fausto, lascia i tuoi libri dannati. Non li guardare. Potrebbero tentarti e attrarre sul tuo capo l'ira di Dio. Leggi, leggi i Vangeli. Questo è bestemmia. Avanti, Fausto. Impara l'arte famosa che racchiude il tesoro della natura. Sì, sulla terra come Giove nel cielo, re e signore degli elementi. Come mi pasce l'animo quest'idea. Mi farò dare tutto dai miei spiriti. Mi scioglieranno ogni perplessità. Compiranno qualunque impresa assurda. Mi spedirò nell'India, in cerca d'oro, a saccheggiare le perle del mare, a frugare in ogni angolo del mondo nuovo per frutti ghiotti, cibi principeschi. Mi leggeranno strane filosofie ed i segreti di tutti i re stranieri. Riempirò di broccati l'università per vestire con sfarzo gli studenti. Con quel danaro recluterò soldati. Scaccerò via il principe di Parma e regnerò sulle nostre province. Sì, mi farò inventare dai miei spiriti macchine belliche più strane della nave di fuoco che bruciò il ponte di Anvers. Mi domando che ne sarà stato di Fausto, che faceva tremare le nostre scuole con i suoi sic-probo. Presto lo sapremo, ecco il suo assistente. Ehi, giovanotto! Dov'è il tuo padrone? Dio in cielo lo sa! Come? Tu non lo sai? Io lo so, ma non è conseguenza logica. Ehi, furfante, smetti di fare scherzi. Dicci dov'è. In verità il mio padrone è in casa, miei cari fratelli, a pranzo con Cornelio e Valdez. Come questa bottiglia, se potesse parlare, sarebbe lieto di chiarire alle signorie vostre. E conciò, miei cari fratelli, il Signore vi benedica, vi presenta e vi guardi. Ma questo vuol dire che Fausto si è dato a quell'arte maledetta per cui quei due si sono coperti di infami agli occhi del mondo. Anche se si trattasse di uno sconosciuto e non di un amico che mi è caro, lo stesso mi preoccuperei. Vieni, dobbiamo dirlo al Rettore, forse i suoi saggi consigli riusciranno ancora a salvarlo. Purtroppo temo che niente possa ormai salvarlo. Lo stesso dobbiamo fare tutto il possibile. Venite, Valdez il tedesco e Cornelio, fatemi beato con il vostro sapere. Valdez, buono Valdez e Cornelio, sapete che le vostre parole mi hanno persuaso studiare magia e le arti occulte, ma non solo voi, ma la mia fantasia, che nella testa non ha altro oggetto se non pensieri di arte negromantica. Odiosa, oscura è la filosofia, legge, arte medica, roba da ingegneri magri e peggio ancora è la teologia, aspra, spiacevole, indisprezzabile, vile. Ma la magia, quella vi rapisce. Aiutatemi dunque, buoni amici, e io che con schietti silogismi stupii i preti della chiesa tedesca e intorno ai miei problemi feci sciamare gli alti ingegni di Wittenberg, come gli spiriti quando il dolce museo giunse all'inferno, sarò provetto almeno quanto agrippa il mago di cui l'intera Europa ammira l'ombre. Questi libri, il tuo ingegno, la nostra pratica, faranno che ogni popolo ci canonizzi. Come gli indiani schiavi degli spagnoli, così i sudditi di ogni elemento saranno sempre a noi tre servizievoli. Come leoni ci faranno guardia, come alemanni a cavallo con lancio lapponi giganti ci si seguiranno e a volte come donne o come vergini dall'alto ciglio che ombreggia più bellezza di quanta ne abbia venere tra i seni bianchi ci porteranno da Venezia le navi strapiene e dall'America il vello d'oro che riempie le arche del vecchio Filippo, se il sabio Paosto è davvero deciso. Sono così deciso, Valdas, come tu a vivere. Perciò devi aiutarmi. Fausto, i miracoli della magia ti faranno lasciare ogni altro studio. Chiunque sia edotto in geografia, ricco in lingue, versato in minerali, ha tutto ciò che quest'arte richiede. Sì, certo, Fausto, che sarai famoso. È per questo mistero più frequentato che l'oracolo delfico nei tempi andati. Dicono i demoni che possono svuotare il mare e trarne l'oro dei naufragi. Sì, e i tesori che gli antichi nascosero nelle massicce viscere della terra. E allora, Fausto, che altro potremmo chiedere? Niente, Cornelio. Ah, mi rallegri l'anima. Ti prego, insegnami qualche prova magica. Voglio evocare gli spiriti in un bosco, possedere appieno queste gioie. Dovrai andare in un bosco deserto, con le opere di Alberto e di Bacone, i salmi ebraici, il nuovo testamento e altre cose che servono. Te le diremo prima che cessi la nostra conferenza. Lascia che impari adesso le parole d'arte. Quando avrà preso le altre cerimonie, proverà quel che può fare da solo. Prima dovrò darti i rudimenti, poi sarai più perfetto di me. Andiamo a tavola allora. Dopo cena mi spiegherete ogni particolare. Stanotte mi metterò alla prova. Dovessi anche morire. Oggi scongiuro. In questo cerchio è scritto in anagramma, per dritto e per rovescio, il nome Geova, oltre ai caratteri dei segni e stelle erranti che obbligano gli spiriti a apparire. Fausto, dai inizio ai tuoi incantamenti. Vedrai se i diavoli rispondono ai tuoi ordini, ora che li hai pregati o seppiati. Dunque, coraggio, Fausto, sii risoluto. Prova i poteri estremi della magia. Sint mighi dei acerontis propizi, valeat numen triplex Ieove. Ignei, aerei, acquatici spiritus, salvete. Orientis princeps Belzebù, infermi ardentis monarca, et demogorgon proviziamos vos sute surgat et appareat Mephistophilis. Mephistophilis. Quint moraris. Per Ieovam, Geennam, per consacratam aquam quanunque spargo, per vota vostra, ipse nobis surgat et dicatus, Mephistophilis. Vattene! Ti ordino di mutare aspetto. Sei troppo brutto per stare al mio servizio. Trasformati in un vecchio francescano. Quel santo aspetto si addice meglio ad un diavolo. Vedo che i miei scongiuri sono efficaci. Chi non sarebbe esperto in questa arte? Com'è pieghevole questo Mephistophilis. Pieno di ubbidienza, di umiltà. Potente la magia. E le mie formule ormai senegromante laureato Fausto, se poi dà l'ordine al grande Mephistophilis. Qui nel Redis, Mephistophilis, Fratris, Immagine. E adesso, Fausto, che altro devo fare? Ti comando di assistermi tutta la vita e di eseguire ogni ordine mio. Dovessi far cadere la luna dalla sua sfera e inondare la terra con gli oceani. Io sono servo del grande Lucifero e non posso servirti senza il suo assenso. Dobbiamo fare solo quello che lui ordina. Ma lui non ti disse di presentarti a me? No. Sono a corso per volontà mia. Non ti evocò il mio scongiuro? Parla! Fu la causa. Ma per acides. Quando qualcuno strazia il nome di Dio, abbiura le scritture e il Salvatore, noi vogliamo prendergli l'anima gloriosa. Ma solo se gli adopera quei mezzi che comportano il rischio di donnazione. Perciò, la via più breve per scongiurare è abbiurare con forza la Trinità, pregando il re dell'inferno con zelo. Così ho fatto. E affermo questo principio. Non c'è altro capo che Belzebù, al quale Fausto dedica a se stesso. La parola condanna non lo spaventa perché confonde l'inferno con l'eliso. Resti il suo spirito con gli antichi filosofi. Ma lasciamo questa inezia dell'anima e dimmi, chi è Lucifero? Il tuo signore. Padrone e arcireggente degli spiriti. Ma una volta, Lucifero non era un angelo? Sì, e Dio l'amava teneramente. E com'è che adesso è il principe dei diavoli? Fu per orgoglio e insolenta ambizione che Dio lo scacciò dalla faccia del cielo. E voi chi siete che state con Lucifero? Miseri spiriti, caduti con Lucifero, ribelli contro Dio con Lucifero, e per sempre dannati con Lucifero. Dove siete dannati? Nell'inferno. E com'è che ora sei fuori dell'inferno? Ma questo è inferno e non ne sono fuori. Credi che io che vidi in faccia Dio e che assaggiai le gioie del cielo eterne non sia straziato da diecimila inferni, privo ormai dell'eterna beatitudine? Fausto, smetti queste domande frivole che mi riempiono l'animo di terrore. E il grande Mephistofele è così afflitto perché ha perso le gioie del paradiso. Guardami e impara fortezza virile e a disprezzare quello che non avrai mai. Porta al grande Lucifero questo messaggio dato che Fausto è in corso in morte eterna poiché dispera della somma e d'età gli dirai che egli gli consegna l'anima purché lo lasci per ventiquattro anni vivere in mezzo a tutte le voluttà e tu rimanga sempre al mio servizio e mi dia ogni cosa che ti chiedo e mi dica ogni cosa che ti comando. Uccidi i miei nemici, salvi i miei amici e obbedisci a ogni mio comando. Va e torna dal grande Lucifero verrai a mezzanotte nel mio studio per dirmi che ha deciso il tuo padrone. D'accordo Fausto. Se avessi mille anime tutte le cederei per Mephistofele diverrò imperatore con lui del mondo farò un ponte teso nell'aria mobile per varcare l'oceano con un esercito riunirò i monti costieri dell'Africa per farne un continente con la Spagna e i tributari entrambe del mio regno. L'imperatore vivrà col mio permesso e tutti gli altri potentati tedeschi. Ora che ho avuto quello che volevo rimarrò a meditare su quest'arte finché non torna Mephistofele. All right. Ehi ragazzo Vieni qua Come? Ragazzo Bella questa Ragazzo Spero che abbiate visto molti ragazzi con una barbetta come la mia Ragazzo mi chiama Dimmi, mascalzone Hai qualche entrata? Sì E anche delle uscite, come potete vedere Povero schiavo Ma guardate Com'è scherzo alla povertà con la propria nudità Il villano è pelato, è senza lavoro E con una fame addosso che darebbe l'anima al diavolo Per una coscia di montone perfino cruda Proprio l'anima al diavolo per una coscia di montone perfino cruda Ti sbagli amico, perbacco Dovrebbe essere bell'arrosto e col suo bel sugo Se devo pagarla così tanto E va bene Vuoi entrare al mio servizio? Io ti farò girare come qui Mi Discipulus Come sarebbe a dire? In versi? Ma no, bruffone, non cominciare a fare scherzi E piuttosto facciamo questo bel contratto per sette anni Altrimenti io ti trasformo a tutti i pidotti che hai addosso in diavoli E ti faranno a pezzi Dice davvero? E' bene fu risparmiarsi la fatica Perché per farmi a pezzi si arrangiano benissimo da soli Altro che si prendono certe libertà con le mie carni Come se avessero pagato, vitto e alloccio Bene Bene Mi senti? Mi senti? Ma scarzone? Prendi questi scudi? Sì signore E grazie a lei D'ora in poi Rustico Sei prenotato a presentarti con un'ora di previso Ovunque, quandounque il diavolo voglia venire a prenderti Allora si prende i suoi scudi Non li voglio Ah nemmeno io Se li prenda Ma siete testimoni che io glielo ho dato Siete testimoni che glieli restituisco Allora io faccio venire due diavoli che ti porteranno via Badio e Ruttone Ruttone Che venga Ruttone, l'ho rutto io Non ho certo paura di un diavolo E adesso farai quello che ti dico gli occhi Sì bubba Vada via il diavolo però Spiritus Va dietro E adesso seguo Sì signore Ma senta mi insegnere anche a me a scongiurare i diavoli Io ti insegnerò a trasformarti in quello che vuoi Un cane, un gatto, un sorcio Quello che vuoi Oddio un cristiano trasformato in un cane, un gatto e un sorcio No signore Semmai vorrei diventare una bella piccola pulcetta saltellante Per andare qui e là e dappertutto E sì che saprei solleticare le belle ragazze Bravo Wagner Villano Chiamami Mastro Wagner Ed ora in poi L'occhio sinistro dovrà guardare diametralmente fisso il mio calcagno destro Per quasi vestigius nostris Insistere Santo cielo Questo parlo olandese Va bene lo seguirò Che posso farci Ora guardate È giunto il gran momento E nel suo studio Fausto attende l'ora In cui dovrà tornare Mephistofele Bene e male contrastano nel suo animo Fausto Ormai sei condannato a morte Non ti puoi salvare Inutile pensare a Dio Al cielo Lascia quei vani pensieri Non sperare nulla da Dio Spera in Bezzebul Non farti indietro Fausto Sii risoluto Perché esitare Ma qualcosa mi dice Abbiura la magia Ritorna a Dio Sì Fausto può tornare a Dio Ma Dio Egli non dava Il Dio che tu adori È il tuo appetito Dove non c'è altro amore Che Perzebul Gli costruirò una chiesa E sull'altare Gli offrirò Sangue tiepido di neonati Buon Fausto Lascia quell'arte esecrabile Far contrizione Pentirsi Pregare Sì Sono i mezzi per salire al cielo Sono illusioni Frutti della follia E chi più fede ha in essi Più è scemo Pensa al cielo E a cose del cielo Fausto No Pensa alla ricchezza E all'onore Alla ricchezza Sì La signoria di Emden Sarà mia Con Mephistofele accanto Sei salvo Fausto Quale Dio può nuocerti Non dubitare Vieni Mephistofele Con la buona novella di Lucifero Non è già Mezzanotte Vieni 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 Mephistofele Che ti ha detto Lucifero Il tuo re Che ti dovrò servire fino alla morte E pagherai con l'anima E pagherai con l'anima Il mio servizio Ma quella l'ha già rischiata Fausto per te Sì ma devi legargli alla solennemente E scrivere un contratto col tuo sangue Il gran Lucifero vuole una garanzia Se ti rifiuti me ne torni in inferno No aspetta Mephistofele dimmi Perché vuole la mia anima Il tuo signore Per allargare il suo regno Ed è per questo che ci tenta così Solame miseris socios Abuisse Doloris E ha un conforto per gli infelici Avere compagni nella disgrazia Ah Ah così Anche voi soffrite le torture Più di quanto ne soffrano le anime umane Ma dimmi Fausto Mi darei la tua Sarò il tuo schiavo Il tuo servitore Ti darò più di quel che potrai chiedere Sì Mephistofele Te la darò Te la darò Coraggio Su Fatti un taglio su un braccio E impegna l'anima In modo che un giorno possa Lucifero Venire a reclamarla Poi sarai grande Più del grande Lucifero Guarda Mephistofele Per compiacerti Mi taglio qui Il braccio E con mio sangue Impegno l'anima Al grande Lucifero Re Sovrano Della notte eterna Guardalo Gocciolare dal mio braccio Perché sia propizio Al mio desiderio Aspetta Fausto Devi scriverlo in forma di contratto Sì Mephistofele Sì Mephistofele Lo farò Ma guarda Guarda Mephistofele Non posso scrivere Il sangue si aggerà Porterò fuoco per scioglierlo di nuovo Perché Perché il sangue si è fermato Perché il sangue si è fermato Cosa vuol dire Che il sangue si è fermato Forse non vuole che io scriva il contratto Perché non scorre E non mi lascia scrivere Fausto ti cede l'anima Qui si è fermato E perché no Non è tua l'anima Me li scrivi ancora Fausto ti cede l'anima Fausto ti cede l'anima Il fuoco è pronto Corato Fausto Scandalo Ecco Ora Il sangue scorre di nuovo Come prima Mi metto all'opera immediatamente Che non farei Pur di carpirgli l'anima Consumato mest Ecco il contratto Con il quale ho dato l'anima A Lucifero Ma che c'è Che c'è qui sul mio braccio Omo Fuge E dove dovrei fuggire Se torno a Dio Mi butta all'inferno No La mia vista l'inganna Ma no Qui Non c'è nulla No Ma sì Ma è chiaro Proprio qui è scritto Uomo fugi Ma Fausto Non fuggirà Non fuggirà Li porterò qualcosa per distrarlo Non fuggirà Non fuggirà Non fuggirà Non fuggirà Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' quel che basta per pagare mille anime. Ecco la pergamena, Mephistofele, con la quale ti ho dato anima e corpo, ma una condizione che tu eseguisca ognuno degli articoli prescritti. Fausto, giuro per l'inferno e Lucifero che adempilo a tutte le mie promesse. Adesso, fammi leggere. Con le seguenti condizioni. Primo, che Fausto possa diventare uno spirito, sia nella forma che nella sostanza. Secondo, che Mephistofele sarà il suo servitore e ubbidirà i suoi ordini. Terzo, che Mephistofele farà per lui e gli procurerà qualunque cosa. Quarto, che nella sua camera e abitazione Mephistofele sarà invisibile. Infine, che egli accorrerà presso il suddetto dottore Ioannes Faustus in qualunque momento, aspetto o forma che gli sia richiesta. Io, Ioannes Faustus di Wittenberg, dottore, per la presente cedo il corpo e l'anima a Lucifero, principe dell'Oriente, e al suo ministro Mephistofele. E inoltre, concedo loro, purché trascorsi ventiquattro anni senza violazione dei precedenti articoli, il pieno potere di prendere o portare via il suddetto Ioannes Faustus, corpo e anima, carne, sangue e beni, nella loro dimora. Ovunque essa si trovi. Si è chiamato Ioannes Faustus. Dì, Fausto, riconosci questo contratto? Sì. Prendilo. E che il diavolo te lo paga. E adesso, Fausto, chiedi ciò che vuoi. Prima di tutto, una domanda sull'inferno. Dov'è quel luogo che gli uomini chiamano inferno? Sotto il centro. Questo lo so, ma in quale posto? Entro le viscele di questi elementi, dove siamo per sempre torturati. L'inferno non ha limiti, non è racchiuso in alcun luogo. Inferno è dove siamo? E dove è inferno? Dobbiamo stare sempre. E infine, quando il mondo verrà sciolto e ogni creatura purificata, diverrà inferno ciò che non è cielo. Ma che? Per me l'inferno è una favola. Poi lo vedrai e cambierai idea. Perché tu credi che io sarò dannato. Ma certamente, vedi la pergamena dove hai ceduto l'anima a Lucifero? Sì, e anche il corpo. Ma cosa importa? Pensi davvero che io sia così sciocco da credere che dopo questa vita si può soffrire? Ma va, va, sono frottole, storie da donnetto. E io, Fausto, non dimostro il contrario, che fui dannato. Adesso sono in inferno. In inferno. Se questo inferno non mi preoccupa esserci condannato, come discutere, camminare, eccetera. Cambiamo discorso. Voglio una moglie. Sì, la più bella ragazza di Germania, perché sono lascivo, licenzioso. E non so vivere senza una moglie. Una moglie, Fausto, so via, non parlare di moglie. No, portami una, buona Cristofale, la voglio davvero. Ne vuoi una? E va bene, ti porterò una moglie per tutti i diavoli. e non so vivere senza una moglie. Grazie a tutti. 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 Vi svegli questo tre volte con unzione e appaiono degli uomini corazzati, pronti a eseguire tutto quello che vuoi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.